Che vuoi? Uomini e donne, Tina e Chicco si sono lasciati. La verità della Cipollari Uomini e donne Gossip News, Tina in crisi con il marito Chicco Nalli? Finalmente la verità. . Cancelletto Tina Cipollari, la star di Uomini e donne, video, è in crisi con suo marito Chicco Nalli? E questa lultima chicca di gossip che ormai da un bel po' di settimane traopela sul web e sui social e che fino a questo momento non aveva trovato ancora conferme e neppure smentite da parte della storica opinionista della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. . . Le voci di una possibile crisi tra Tina e Chicco era stata avallate anche da una serie di foto apparse sulle riviste di Cronaca Rosa e Gossip, dove si vedeva lairstylist in compagnia di un volto noto del piccolo schermo. . Tina e Chicco sono in crisi? La verità sul matrimonio. Qualche settimana fa, infatti, Chicco Nalli era stato paparazzato in compagnia di Floriana Secondi, ex protagoniosta e vincitrice del Grande Fratello. . 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